Ciao a tutti, devo ringraziare alcuni di voi che mi hanno fatto notare che lo strumento rimuovi non compariva anche a loro, non compariva in questa zona qui qua in mezzo, ma nei tre puntini qua sotto saltava fuori. E di fatti io ho provato, io mi ero fermata perché aprendo Photoshop mi ero ritrovata questa finestra qui e quindi ho pensato non me lo fa vedere perché il mio computer non ha un processore grafico compatibile e invece guardate qui andando qua sotto nei tre puntini tra i vari strumenti trovo lo strumento rimuovi e quindi lo strumento rimuovi c'è e ora vi faccio vedere anche come funziona. Se vogliamo inserirlo come ce l'hanno tutti qua all'interno degli strumenti di correzione basta fare questa cosa qui, cliccare sui tre puntini che ci troviamo qua, adesso lo strumento rimuovi è lì e quindi i tre puntini li troviamo cliccando sul piccolo triangolino lì di lato, selezionare lo strumento rimuovi e andarlo a inserire dove interessa a noi. Quindi andarlo a selezionare e poi inserirlo dove interessa a noi quindi tra lo strumento pennello correttivo al volo e strumento pennello correttivo. Vado così ed ecco che ce l'ho al suo posto strumento rimuovi. Chiudo, di fatti qua sono tornata a avere i tre puntini e qua in mezzo tra i vari strumenti al secondo posto c'è lo strumento rimuovi. Adesso andiamo a vedere come funziona questo strumento rimuovi, è uno strumento facilissimo da usare, ha pochissime cose, la dimensione del pennello che vedete in questo caso io ce l'ho sull'immagine, vedete non è né grande né piccolo, campiona su tutti i livelli se ho più livelli e rimuovi dopo ogni tratto. Rimuovi dopo ogni tratto vuol dire che se io faccio questa cosa qui, vedete qui ci sono solo le teste, finito di selezionare la zona lui parte con la rimozione. Vedete che ha rimosso quello, se poi vado qui stessa cosa, appena lascio andare lui andrà a togliere tutto quello che ho selezionato. Ecco, e tra un attimo mi toglie tutto. È uno strumento veramente potente perché guardate cosa ha fatto, qui ha tolto tutto, qui c'è un pezzetto che non so da dove viene ma lo vado a togliere, e qui che c'è questa curva qua, se io faccio così dovrebbe continuare la mia curva, vedete che me l'ha continuata, non ha fatto un lavoro perfetto ma l'ha fatto. Andiamo adesso, ingrandisco un po' per avere l'immagine più grande, andiamo a lavorare su cose un pochettino più complicate come ad esempio togliere queste persone che sono all'interno della cabina di attesa del tram. Allora vediamo un po', adesso qua vado ad attivare, vado a disattivare, rimuovi dopo ogni tratto e inizio a pennellare in modo da avere il tempo di pennellare tutto prima di dirgli di rimuovere. Ecco, adesso ho lasciato andare, vedete ricomincio qui, prendo anche questa zona qui, poi prendo questo piede, questa gamba, prendo anche questa gamba qui, prendo questa, questa parte qua e questa. Controllo adesso, quando ho finito, controllo so di avere preso tutto perché altrimenti, ecco vedete che qua non avevo preso la parte centrale, e a questo punto vado a cliccare sulla spunta qua in alto. Cliccando sulla spunta, lui parte con la rimozione. Devo dire che nonostante la mia scheda grafica sembra non essere all'altezza, in realtà il lavoro lo fa abbastanza in fretta. E guardate che cosa è successo. Qui mi ha rifatto i segni del tram, non sono perfetti ma se poi li voglio perfetti con un clone li posso mettere a posto. E poi qui è andato a lavorare sulla cabina per l'attesa del tram. Adesso premo il tasto Z, muovo il mouse in modo da ingradire questa zona e andiamo a vedere cosa ha combinato. Beh in effetti non è il massimo, però possiamo lavorarci ancora. Lavorandoci ancora, torniamo al nostro pennello di rimozione, cliccando anche J, torno a quel pennello lì, vedete, e andiamo a vedere qui che cosa possiamo fare. Guardate, adesso io faccio questo lavoro qui. Guardate, adesso prima metto, rimuovi dopo ogni tratto così vedo sempre che cosa fa e poi proviamo a fare questa cosa qui. Andiamo a togliere questo, che è un di più, andiamo a togliere magari con un pennello un po' più piccolo, quindi lo diminuisco. Vado a togliere questa cosa qua. tolgo anche questa, che non si sa bene che cosa sia, ma l'ha creata lui. Vado a togliere questo signore qua tra le due cose. Guardate, guardate come lavora, veramente, è incredibile quello che fa. Vado a togliere questo, vedete, e tolgo anche, qui voglio che mi ricrei quella parte lì, non voglio il braccio che spunta da lì. Vediamo che cosa succede facendo questo lavoro qua. Ecco. Ecco, vado ancora a togliere, vedete che mi ha ricreato la parte alta qui, vado a togliere ancora una volta questo. Ecco, vedete, guardate che cosa ha fatto, è incredibile. Qui vado magari a togliere questa cosa qui, che mi sembra un po' di troppo. Vedete, ha pulito lì, ha pulito qua, qui tolgo questo pezzetto qui. Qui, secondo me, non c'era niente. Aspettate, vado a vedere un attimo come era originariamente la foto. Andiamo a vedere qua. Ecco, qui c'era un'auto che è sparita, vede, il signore l'ho fatto sparire io, e qui ha ricostruito tutto. Quindi andiamo a vedere che cosa possiamo ancora togliere. Allora, la bici, questo lo possiamo togliere. Diciamogli che non c'è. Quindi vediamo che cosa crea. Perché magari ci fa la base come quella, o come questa. Ecco, qui possiamo dirgli che c'è un lampione. Vedete che va già meglio. Qua possiamo togliere questa parte. Che, ecco, qui possiamo andare a dirgli che qua fa CTRL-Z. Ah, però, ha fatto un bel lavoro. Allora, lasciamo così. Perché mi sono sbagliata, ma in realtà ha fatto un ottimo lavoro. Che poi l'intelligenza artificiale va a creare, vedete, va a creare dei tratti che noi neanche ci aspettiamo. Qui, questo lo posso anche lasciare, magari tolgo tutta questa parte qui, che non si sa bene che cos'è, che lui con l'intelligenza artificiale ha inventato delle zone. Qui magari togliamo anche questo. Vedete, ha lavorato in una maniera che, se lo avessi fatto da sola, probabilmente ci avrei impiegato chissà quanto tempo e non sarei arrivato a questi livelli. Qui abbiamo questa strada qui che doveva incrociare con l'altra, vediamo se riusciamo a unirla in qualche modo. Magari, ecco, vedete, l'intelligenza artificiale ha fatto sì che questa strada, questo marciapiede, venisse fuori. Vedete, è una cosa incredibile, perché anche qui abbiamo questo pezzetto qui che manca, ma se io faccio così, probabilmente, vedete, anche qui ne manca un pezzetto. Qui abbiamo questa cosa che è ripetuta, che non va bene. Ecco, me l'ha pulito. E, ragazzi miei, cioè, devo dire che prima c'era una persona lì, anzi, due, tre, ora non c'è più nessuno. C'è una cabina telefonica pulita e nient'altro. Vedete, è tutto pulito e laggiù è ancora da lavorare. Però, ragazzi, è già una gran cosa. Vi faccio ancora vedere su un'altra foto la stessa correzione. Adesso qui voglio togliere tutte queste persone qui, che io vi ho spiegato una volta come togliere le persone. Cioè, semplicemente facendo un lavoro molto particolare, scattando più foto nello stesso posto e facendo attenzione che le persone si spostino. Poi con una tecnica, che vi metto qui sopra, si possono togliere, si può pulire tutto. Però qui, guardate, senza aver fatto tutta una preparazione prima, aver fatto vari scatti con le persone che si muovevano e tutto il resto, ecco che noi andiamo a togliere le persone dalla scena. Allora, queste sono abbastanza facili da togliere, diciamo. Ecco, facciamo così, togliamo queste. Andiamo a togliere anche il marito della signora. Così abbiamo qualcosa di più. Vanno dietro, qui, così. Perché lui, quello che vede, quello che... Quello che deve togliere, lo interpreta e lo toglie. Anche il berrettino e il braccio. Vediamo che cosa succede, eliminando questa parte qui. Ecco, mi ho tolto quasi tutto, è rimasta una gamba, un'altra gamba qui. Qui l'intelligenza artificiale, probabilmente l'avevo dimenticato di pulirlo. Qua abbiamo questa porta, che è una porta, quindi magari andiamo a pulirla in questo modo. E qui abbiamo, questa parte qui deve essere pulita. E poi andiamo anche a togliere questa persona qua. Vediamo un po'. Contro Z. Voglio prendere solo un pezzetto di questa persona, perché il resto... Ah beh, ma questo è quello che ha ricostruito lui prima. Ecco, vediamo un po'. Allora, adesso diamogli un via. E vediamo se mi fa sparire le cose che ho appena selezionato. Ecco. Vedete che è già un lavoro decisamente migliore. Facciamo una cosa, togliamo questo. E diciamo di toglierlo. Beh, non gli è piaciuto molto, lo vuole così lui. Poi andiamo a togliere questa persona qua, che è rimasta già solo a metà, quindi non mi interessa più. E poi comunque ve l'avrei tolta. L'intelligenza artificiale di questo strumento rimuove. È veramente incredibile, perché fa delle cose che non ci aspettiamo. Riesce a pulire in punti dove praticamente ricrea tutto e lo fa con un'estrema semplicità. Adesso andiamo a pulire. Ecco, vediamo che il grosso è stato fatto. Adesso vado a pulire pezzetto per pezzetto. Tolgo questo, tolgo questo, questo qui. Come vi ho detto, funziona un po' come pennello correttivo al volo, ma in più ci mette l'intelligenza artificiale. Adesso qua, io devo andare a togliere questa parte qui. Allora, qui voglio ricreare un po' di questo pavimento qui. Vediamo che cosa succede. No, direi che è andata peggio di prima, quindi ho CTRL-Z, torno indietro, facciamo CTRL-Z, CTRL-Z, e poi lavorerò magari più con il clone. Qua possiamo togliere questo pezzetto qua, e lui dovrebbe tirare una riga, ecco, e qui possiamo andare a togliere questo, e questo pezzetto perché riprende da lì, non è il caso. E anche qua, io andrei a togliere tutta questa parte qua. E poi anche qui bisogna lavorare col clone. Poi vediamo anche queste persone qua davanti, che andiamo a togliere un attimo. Ok. E direi che ha fatto un ottimo lavoro. Andiamo a togliere, adesso ingrandisco e mi sposto più in là. Ecco. Andiamo a togliere anche il bambino, qui, in fondo alla scalinata, e la madre, questo signore qua, e via anche questo. Rimarrà probabilmente un puntino lì dalla gamba, perché sono stata un po' stretta. No, ha pulito tutto. Magari tolgo questa cosa che non mi sembra che c'è niente, neanche questa. e poi vado ancora a togliere l'altra signora qua. Quella qui. questo pezzetto qua, e togliamo ancora l'ultimo signora. Ah, ci mi è scappato la mano. Ecco, qui conviene sempre tenere attivo, disattivare i rimbombi dopo ogni tratto, perché così uno decide soltanto alla fine, CTRL Z decide soltanto alla fine quando far partire la correzione. Adesso io l'ho tolta, l'ho tolta la spunta in alto, quindi posso fare un pezzo, poi cliccare di nuovo e fare l'altro, qui, e qua. Poi prima di dare l'invio qua, controllo bene di aver selezionato tutto, qua ne manca un pezzettino, e qui forse anche, e poi do l'invio. Ed ecco che lui dovrebbe lavorare, finirmi la finestra che c'è lì, se è abbastanza intelligente, non ce l'ha fatta, facciamo così allora. Andiamo a cliccare, a pulire ancora lì, e vediamo, ah, scusate, e vediamo che cosa succede. Sì, non è il massimo. Anche qui, vediamo che cosa succede. E poi il resto va fatto con il timbro clone, però, oppure togliamo proprio tutta la finestra, che magari facciamo prima, e ci ritroviamo con la parte pulita. Ecco. Vedete, abbiamo fatto già un buon lavoro, c'è qualche rifinitura qua in questa zona da fare col timbro clone, però vedete, tutte le persone che c'erano qua dentro, ora non ci sono più, sono sparite tutte. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda, qualcuno mi ha chiesto la barra, questa barra qua, la barra delle attività, in realtà, quando io sono sul livello sfondo, c'è. Quando io invece, vado nelle regolazioni, e faccio una modifica, tipo, non so, una curva, vedete che la barra, a questo punto, non ho fatto nulla, però, la barra è sparita. Se io mi riposiziono sul livello sfondo, la barra c'è, quindi la possiamo utilizzare in questo caso. Per chi invece mi ha chiesto, dove trovavo le regolazioni dei predefiniti, se non le avete, come lo ho io qua, dovete andare sotto finestra, e aprire la finestra regolazioni, se non ce l'avete. Quindi ho risposto a tutte le domande, che mi avete fatto, nel tutorial precedente. Spero di essere stata chiara, cliccando qua sopra, io adesso ce l'ho già spuntata, vi ritroverete questa finestra regolazioni. Se volete lavorare, adesso questa che vedete, è un'interfaccia che mi sono creata io, però se volete utilizzare un'interfaccia più adatta a voi, utilizzate questa fotografia, perché l'interfaccia fotografia, in ogni caso, ha le regolazioni qua, vedete, qua di lato, c'ha le librerie e le regolazioni. Quella che invece uso io, è un'area di lavoro, che si chiama Grazia, che è mia personale, me la sono creata io, e in un tutorial tempo fa, vi ho anche fatto vedere, come si fa a creare queste interfacce personalizzate. Per il momento, il tutorial finisce qui, vi ringrazio per avermi ascoltata, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, a questo punto, spero di aver completato, tutte le novità di Photoshop 24.5, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!